L'intervento di oggi voleva mettere in luce l'importanza dell'attività diabilitativa in un dipartimento come il nostro che è molto attento, o cerca di essere molto attente, alla realtà umana della malattia mentale. Cioè la malattia mentale si tematizza essenzialmente nella frattura della comunicazione, quindi è per noi importante tentare di ristabilire una comunicazione con persone che non sono malate in senso tradizionale, non hanno una malattia su base organica, le malattie mentali non sono malattie cerebrali, ma hanno difficoltà nel relazionarsi con gli altri e al tempo stesso desiderano e temono la relazione con l'altro. Quindi in un centro salute mentale come il nostro, il percorrere questa strada significa difendere fino in fondo la dignità umana dei nostri malati.